Dottore Vincenzo Greco, commissario straordinario alla Comune di Quarto, parliamo di raccolta differenziata, siamo ancora a livelli bassi rispetto a quello che prevede la norma, entro il 31 dicembre si deve arrivare minimo al 35%. Sì, per la verità noi adesso viaggiamo su una percentuale del 27, quasi il 30%. Entro fine mese di ottobre si procederà alla distribuzione dei cassonetti per una determinata zona. Entro fine anno si procederà per tutto il territorio, alla distribuzione del territorio. Se il programma sarà questo e verrà mantenuto, noi supereremo il 50% della raccolta differenziata, quindi ben oltre il 35% previsto dalla norma. Commissario, lei ha indetto anche un bando di concorso per un nuovo responsabile della Quarto Multiservizi. Era un atto dovuto che dovevo fare e l'abbiamo fatto prevedendo anche una griglia di valutazione di determinati titoli che tolgono anche al commissario una discrezionalità nella nomina perché si farà il conteggio dei titoli posseduti da queste. Noi abbiamo privilegiato la valutazione di titoli relative all'esperienza professionale in materia di gestione aziendale e di professionalità nel settore dell'ambiente.